Perchè io farei tutte e tre, sono tre momenti, no? Farei tutte e tre complete e poi ripartirei al capo e devo chiedere di sfumare. Dali più un'idea. Noi lo possiamo fare anche da computer, coppiamo e poi, però teniamo comunque la parte di questo. Va super, va vero, ma non ha niente a che fare con quella di... Neanche con quello di calcio. Ella ci guida non solo come tempo ma anche come dinamiche. Perché io ti parto, diciamo, chiedendo la sezione un po' alla volta. Per esempio, già quando ho messo a Sofoni io faccio molta fatica a sentire perché qua è già altissimo. Facciamolo almeno la quarta volta. Crescendo. Crescendo lo facciamo da una... Cominciamo proprio piano. Allora già così un po' c'è l'effetto della maglia che arriva da lontano, però poi eventualmente loro... A parte che non si fa così. Grazie. 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 Grazie.